Sequestro di un conto corrente è la posizione di sigilli a due società e ad un negozio tra Brindisi e Francavilla Fontana per un valore totale di 700.000 euro, il tutto riconducibile a Salvatore Capuano, ferito oltre un anno fa e condannato per droga. E' la complessa attività info-investigativa portata a termine questa mattina dai carabinieri del Comando Provinciale di Brindisi, finalizzata a sottrarre alla criminalità ingenti risorse patrimoniali e finanziarie. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Lecce su richiesta della Procura della Repubblica, direzione distrattuale antimafia, che ha concordato con le risultanze investigative acquisite dall'arma nel corso delle indagini sul tentato omicidio del 49enne Salvatore Capuano, avvenuto il 7 novembre 2016. Insieme all'attività classica finalizzata alla scoperta degli autori del tentato omicidio, si è data avvio a un'attività di tipo patrimoniale, avendo acquisito nel corso delle indagini precedenti elementi che facevano ritenere che alcune attività di fatto intestate a prestanome persone comunque orbitanti vicine al Capuano, fossero in realtà poi riconducibili allo stesso. Ragione per cui, col coordinamento della direzione distrattuale antimafia, trovandoci in un ambito associativo di tipo mafioso, si è riusciti ad ottenere il decreto di sequestro che è stato operato in data odierna, che ha portato al sequestro di tre società, costituite da una rivendita di auto, di autoveicoli, che è stata sottoposta a sequestro insieme a 18 autoveicoli pronti per la vendita, ad un negozio di derrate alimentari e ad un esercizio ambulante sempre di vendita di generi alimentari. Capuano è un personaggio di spicco della criminalità organizzata di Francavilla Fontana, appartamento alla Sacra Corona Unita, frangia dei mesagnesi, già condannato due volte per associazione di tipo mafioso. Dalle indagini è emerso infine che il compendio patrimoniale costituisce il frutto delle attività illecite posti in essere da Capuano nel corso di questi anni, a carico del quale è stata accertata una netta sproporzione fra i redditi dichiarati ai fini dell'imposizione fiscale e le sue reali possidenze.